Musica Capobate di Aschia Musica Questo è un piccolo trekking per andare a vedere la caldera. È il cratere di un vulcano spento, in cui si è formato un lago che è caldo, una pozza, una grande pozza, molto ampia, calda, in cui in genere si fa il bagno. Musica 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 Ciao! Questa è la caldera di Aschia, o Aschia, per dire che si voglia. La caldera di Aschia, per dire che si voglia. La caldera di Aschia. La caldera di Aschia, per dire che si voglia. La caldera di Aschia. 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 La caldera di Aschia.